Sono sempre più flebili le speranze di ritrovare in vita il piccolo Mohamed, marocchino 15 anni ancora da compiere, che ieri insieme a un suo coetaneo si è allontanato in acqua su un materessino Giulianova. Mentre l'amico è riuscito a tornare a riva, nonostante il mare e forza tre di lui si sono perse le tracce. Ricerche ancora in corso con l'ausilio di motoredette, gommoni in moto d'acqua, un elicottero della guardia costiera, vigili del fuoco con i sommozzatori e le squadre speciali OPS della Croce Rossa. La macchina del soccorso non si è fermata e non si fermerà. Per noi la ricerca è ancora a pieno titolo, finalizzata appunto all'invenimento di una persona potenzialmente viva. Quindi fino all'ultimo questo impone di operare in tal senso. Durante le ricerche di ieri è stato trovato un costume che a detta dell'amico sembrerebbe essere quello indossato dal coetaneo disperso. Confermo è stato rinvenuto un costume che sembrerebbe essere quello del giovane Mohamed. Lungo la riva, un po' più a nord rispetto al punto in cui pensiamo, abbiamo confermo, si sia ribaltato il gonfiabile. Quindi è un elemento in più, chiaramente, questo all'atere di tutte le attività operative in corso. Il raggio d'azione è stato ampliato. Il coordinamento è rimesso alla direzione marittima di Pescara, sia nelle prime ore ma poi a seguire per tutta la notte, fino anche a questi momenti in cui ci stiamo parlando, hanno chiaramente visto ampliarsi il teatro operativo di ricerca. Quindi ci sono diversi assetti aeronavali impiegati e penso oltre alle motovedette e ai velivoli della Guardia Costiera, anche ad unità dei vigili al fuoco di sommozzatori, unità della Guardia di Finanza, quindi sia un elicottero che una motovedetta, unità della Croce Rossa, delle parti speciali, oltre che pattuglie che via terra della Guardia Costiera, integrano le attività di ricerca in mare. Quindi la zona, ma già dalle prime ore di ieri sera, è stata ampliata anche al litorale rosedano, perché ovviamente il perversale di mare che veniva è vento, che ispirava da nord-est, quindi i ricorrenti che tendevano a portare presumibilmente verso sud, chiaramente hanno imposto l'ampliamento della zona di ricerca. Com'è possibile che due ragazzi si sono potuti allontanare così facilmente a bordo di un gonfiabile? È possibile perché ci rendiamo conto, e questo lo dicono anche i numeri, lo dice un po' la filosofia del soccorso, che c'è un approccio talvolta un po' spensierato, un po' imprudente, un approccio al mare e alle nostre spiagge. E quindi questa situazione nel dramma deve servire un po' da monito anche per rimarcare l'importanza di fruire del mare, delle spiagge in piena responsabilità, non sottovalutare mai un fattore come il mare, un elemento come il mare, che è imprevedibile, ancor più se ci si trova in presenza di condizioni che non sono visivamente ottimali per la balneazione.